Buonasera, bentornati a questa puntata di Instant Book, idee scritture per il futuro. Abbiamo ospite con noi oggi Alessio Giannone, satiro, pazzo scatenato, che ha inventato questo programmino, diciamo così, che gira tanto su web, questa web sitcom, Citofonare Vendola, con il quale abbiamo intrapreso finalmente un discorso sulla satira. Alessio, io penso questo, penso che la costruzione di retoriche, questa è un'idea che ho portato avanti da tempo, facendo riferimento soprattutto a quello che è avvenuto in Puglia in questi anni, ci abbia fatto un po' prendere le distanze dalla realtà. Beh no, forse noi due le non abbiamo preso distanze. Beh noi no. Noi due no. Ai mei ci dobbiamo, ci viviamo. Sì. Però sì, ci sono state poi strovastrutture create dalla politica in questo momento, che assolutamente sono distanti dalla realtà. E parliamo di comunicatori che badano al packaging della politica. Sì, e si limitano a quello. E poi la sostanza non c'è. Ed è disarmante questa cosa, soprattutto se parliamo di sinistra, scusami se parlo di sinistra, però soprattutto se parliamo di sinistra è disarmante quando il contenuto non c'è. E se non c'è il contenuto purtroppo si avviano discussioni e pratiche che assolutamente sono distanti dalle vere esigenze. E lo vedi anche insomma la gestione amministrativa. Voglio citarti una mia immagine. Cioè io ho l'impressione che i comunicatori politici, quindi non parliamo dei politici, parliamo dei comunicatori politici, questo lo diciamo anche al pubblico più vasto perché le due cose non sono sinonimi. No. I comunicatori politici, quindi gli inventori poi degli strumenti, dovrebbero anche essere inventori dei contenuti, in realtà mi sembrano ancelle che portano coppe di champagne al letto del potente. L'effervescenza, allora gli slogan, allora qualcosa che maschera la realtà. La realtà dovrebbe essere il duro lavoro, la dura fatica molto ben pagata, diciamo la verità, dei politici. Anche se alcune volte ho il sospetto, e questa cosa mi è capitata più di una volta, che non veniamo governati da politici ma da comunicatori. Cioè chi sa comunicare. Cosa ancora più grave. Cosa ancora più grave. L'abbiamo visto nell'ultima puntata di Anno Zero, dove il nostro presidente ha avuto difficoltà. Io mi aspettavo qualcosa. Ha avuto delle evidenti difficoltà. E vuol dire che poi quando si scende nel dettaglio, tu sei a un livello e le esigenze di cui dovresti parlare sono da un altro livello. Vengono comunicatori incapaci o poco capaci di inventare contenuti. In realtà no, ho usato un termine sbagliato. Perché in realtà poi li sanno inventare. Ecco appunto, se non è sull'inventiva, ma di conoscere la realtà. Io quando leggo i programmi, mi piace leggere i programmi della politica. Magari anche sintetizzati, perché quelli lunghi insomma. No, no, io me li leggo tutti, perché io sono stato uno dei pochi che quando faceva campagna elettorale portava i programmoni. E i programmoni. Quando leggo i programmi, poiché io lavoro anche con le statistiche, questo è un fatto noto, mi rendo conto della ignoranza che talvolta sta dietro coloro che sì. Questo non si può confondere, ma per dirne una, un tasso di disoccupazione con i disoccupati. Sono cose ben diverse. Ebbè. Molto diverse. Allora a questo punto datemi le ammontate, datemi i valori assoluti, non datemi le percentuali. Ma perché tu sei benissimo che si sono perse delle figure nella classe dirigente. Cioè si è perso lo statista, si è perso colui che si occupava solo di comunicazione istituzionale. Si sono perse queste figure. E adesso ci ritroviamo comunicatori e politici, punto. Poi il contatto con la realtà non c'è a dire una cosa brutta, nella maggior parte dei casi è gente che non ha mai lavorato. E quindi non sanno cosa sta accadendo, non lo sanno. Tu invece mi sei notevolmente simpatico. Grazie. Perché tu adoperi uno strumento che noi, diciamo sociologi di strada, che veniamo dalla scuola di Chicago. Pensavo dalla Mazzini. Sì, sì. No, io vengo dalla casa del prete. Quindi noi adoperiamo anche quello dell'osservazione discreta. Perché tu hai detto all'inizio di questa puntata, io osservo dei comportamenti. Sì, sì. In realtà, adesso per esempio mi sono fatto una buona cultura sulle fabbriche di Niki e la mia prossima serie... Sì, se tu l'hai lanciata in radio... La mia prossima serie sarà i ragazzi della fabbrica. Sì. Che vuole essere solo una lettura per aiutare anche questo movimento che è partito con delle prerogative e purtroppo, ahimè, sta vivendo una fase... Sta un po' svilendo. Come tutti i processi chiusi. Si sta sfarinando. Sì, se tu crei un... cioè costruisci una casa ma la chiudi... No, peccato, perché poteva essere qualcosa di diverso da un contenitore elettorale pulviscolare. Beh, tu avrai letto il saggio di Onofrio Romano, che è stato pubblicato. Beh, insomma, quella descrizione... Penso che avremo anche ospite. Insomma, quindi ti dirà lui meglio di me come ha descritto questo fenomeno. Voglio dire, ho trovato molte difficoltà a contraddirlo. Certo. Sono sincero. Anch'io. E anche quando tu noti delle piccole cose. Sì. Cioè quando non si riesce a ridere di se stessi... Là c'è il regime. Senti, dicevamo, l'osservazione discreta. Diamo qualche strumento a chi volesse cominciare a fare satira. Non indicazioni su chi fare satira. Ah no, vabbè, poi ognuno la fa che vuole. Eh certo, non si può decidere di fare satira su qualunque cosa. Su Leo Palmisano, per esempio, possiamo fare. Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo che qualcuno decidesse... Perché a quel punto io mi sentirai un po' bene. Come? Tre da quattro, tre da quattro, tre da quattro. Perché mi dai la patente di potente. Con Leo Palmisatira, su Leo Palmisano, bene. A questo punto, Leo Palmisano è diventato qualcuno. No, diamo qualche strumento tecnico. L'osservazione innanzitutto. L'osservazione innanzitutto. Poi oggi reperire una telecamera, una videocamera, cioè le cose si possono fare anche con il proprio cellulare. E poi di usare il web assolutamente come mezzo di divulgazione, insomma, vincere a Sperovin che è il Nobel, perché grazie a lui ci possiamo esprimere. E poi soprattutto di dire la verità. Magari qualcuno la potrà contestare. E non avere paura. E non avere paura. Poi magari la mia verità può essere un'enorme cavolata. Però avere il coraggio di dirla, credo che faccia onore. Poi i ragazzi oggi devono fare. Devono accendere le telecambe e fare. Non sarà che la satira non è più considerata una forma, una modalità della narrazione? Perché ultimamente la satira si è confusa con l'imitazione. Noi abbiamo... Oh, c'è Che Cozzalone. Sì. Che imita Vendola. Sì. Perfetto. Cioè rido, mi scompiscio dalle risate. Ma la satira analizza un tessuto sociale. Tu sai cosa diceva Aristotele nella poetica? Beh, Aristotele ha detto tante cose. Che l'imitazione è lo stadio zero per chi vuole iniziare a produrre con l'intelletto qualcosa che abbia il senso del tragico e del comico. Sì, però diciamo che l'imitazione è una cosa. Poi si può anche... Che Cozzalone non imita solamente. Magari c'è uno sfotto anche al linguaggio. La satira è, come possiamo definirla, un'analisi di un disagio. Sì. Che magari porta a sorridere, però è l'analisi di un disagio. Quella è la satira. Poi ci sono tante altre forme, altrettanto apprezzabili anche di successo, che può essere l'imitazione, lo sfottò, eccetera, eccetera. Ma la satira è l'analisi di un problema. E quindi... Dove possiamo trovare le tue puntate? Le mie puntate sono viralmente sul web in decine di pagine, su Facebook, le trovate dappertutto, sul canale di Bar in Fiamme. Vabbè, poi sono state postate da giornali, testate, eccetera, eccetera. Però basta scrivere Citofonare Vendola o Gattoianni, come però la chiave, che adesso la prende anche il T9, non lo so. Vero. Ho provato col T9, la dà. Perfetto. Perfetto. Potenza del potere. Potenza del potere. E quindi trovate queste cose in giro, un po' in rete, dappertutto. Le trovate dappertutto. Oppure andate sulla pagina di Lopal Misano. Eh, sicuramente. Le trovate. Le trovate postate ogni giorno. Ma tu non mi devi leggere una cosa. Sì, io in realtà volevo leggerti un pensiero di un noto rivoluzionario della sinistra, che si chiamava... Che si chiamava? Leone Trotsky. Vado, un compagno. Un compagno. Epoche reazionare come la nostra non solo disintegrano e indeboliscono la classe operaia e disolano la sua avanguardia, ma abbassano il generale livello ideologico del movimento e gettano il pensiero politico indietro di molti stati. Ora. Ora. Pensiero ideologico... Se tu dovessi far commentare questa frase al tuo personaggio, diciamo al governatore Vendola, che tu metti amabilmente alla berlina... Diciamo che... Alla berlina. Niki, ti prego. Vabbè, stiamo scherzando, scusate. Appunto. Mi scuso. Vabbè, diciamo che il pensiero ideologico non c'è più. Ecco. La classe operaia non c'è come la intendeva, c'è un'evoluzione della classe operaia, però purtroppo non c'è più il pensiero ideologico. Però c'è un pensiero retorico. Sì, c'è un linguaggio costruito sulla retorica. C'è un pensiero artificiale. La cosa che fa ridere di più dei video è quando uso la parola mistificazione. Sì. Che in realtà l'ho usata così, tanto per usare perché lui è un termine che usava. E la gente riconosce, diciamo, vendola. Sì. Vendola. Quindi non ci si riconosce più in un'ideologia, ma in un linguaggio o in una retorica. Cioè il tratto distintivo è quello. Mistificazione. Mistificazione. C'è una fa. Siamo arrivati. Come vedere una parte di un corpo e riconoscere chi ne è possessore o possessora. Non l'ho capito, però mi piace. Benissimo, posso fare anche il governatore. Bene, Alessio, io ti ringrazio. Grazie a voi. Invito ovviamente tutti a postare, citofonare. Infanto la Siberia posso sempre mettere i video. E vedremo a trovarti in galera, nelle patrie galere pugliesi. Mi raccomando. Tra qualche tempo. Grazie ad Alessio Giannone. Alla prossima di Statbook. Arrivederci. This life is more than just a read through.